Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Questo video è una sintesi della diretta di martedì 8 maggio dove abbiamo parlato di un programma che serve a disinstallare applicazioni dal proprio computer. Puoi vedere la versione completa della diretta se sei iscritto al canale ed hai attivato la campanella. In questo modo puoi ricevere le notifiche via email o tramite cellulare delle dirette e da lì raggiungere poi le registrazioni della stessa. Ma veniamo a noi. Perché dovrei avere bisogno di un programma per disinstallare applicazioni dal mio computer? Le applicazioni dal mio computer le posso tranquillamente disinstallare andando in questa posizione qui. Quindi se io vado in Cortana e chiedo applicazioni quindi scrivo l'inizio di applicazioni trovo già il comando installazione applicazioni. Da questa schermata che ora apparirà ho la possibilità di disinstallare completamente disinstallare correttamente è più giusto dire un'applicazione, un programma dal mio computer. E io faccio sempre così in realtà. Però ci sono situazioni in cui un'applicazione per qualche motivo non vuole disinstallarsi. Capita raramente ma capita di non riuscire a toglierla. In questo caso serve un programma di terze parti noi utilizzeremo Revo, un installer che è un'applicazione in versione gratuita per togliere questi programmi. C'è un altro momento in cui vado ad utilizzare questa applicazione ed è questa. Quando io installo un programma nel mio computer questi si ramifica all'interno del computer cioè mette dei suoi componenti laddove serve perché poi questo programma funzioni. E questi luoghi sono tanti. Quindi vengono salvati dei file nel nostro computer vengono salvati file in varie cartelle del computer non solo in una cartella principale dove ci sono la maggior parte di questi file. Vengono scritte istruzioni nel file di registro di sistema di Windows che serve a far sì che tutto quanto funzioni. Quando disinstallo il programma quasi tutti questi file vengono eliminati. Non tutti, spesso e volentieri. Non sempre vengono cancellate quelle righe di istruzione scritte nei file di registro perché è troppo complicato star lì a farlo. Viene cancellato il programma e stop. Questi residui inutili che rimangono nel computer a lungo andare, a furia di installare applicazioni e disinstallare applicazioni nella vita quotidiana dell'utilizzo del computer con l'andare del tempo appesantiscono Windows e in certi casi non gli permettono più di funzionare adeguatamente. Questo è il motivo per cui ogni tanto si formatta completamente il computer per ripristinarlo alla massima funzionalità. è un'alternativa o comunque ci sono persone che preferiscono rimuovere completamente i residui dei programmi disinstallati utilizzando un programma di terze parti. E quindi adesso andiamo a farlo. Quindi chiudo questa finestra apro il browser internet ne ho già una pagina aperta sull'altro schermo per cui vado a prendermela e la portiamo qua in visione di tutti quanti e digito in Google il nome di uno dei tanti programmi di disinstallazione. Questo è molto famoso e mi è stato suggerito da voi via email. Allora, Revo, un installer. Eccolo qua che appare direttamente. Ci clicco sopra e scelgo questo download, Revo, un installer. Ci clicco sopra, arriviamo in una finestra dove mi vengono proposte le varie versioni di questo programma per cui c'è la versione free che fa queste cose e non fa queste altre. C'è la versione pro, c'è la versione pro portable e qui ci sono tutte le caratteristiche. In questo video non sono sponsorizzato da Revo un installer. Ho scelto questo programma perché è molto famoso e come ripeto mi avete chiesto e suggerito di provare a vedere come funziona e quindi eccoci qua. Prendiamo la versione free. Per la versione free io trovo che posso scaricare, posso scegliere free download, quindi scaricare la versione free completamente gratuita e scaricare anche la versione gratuita, sempre free, libera, è inteso questo free, ma portable, portatile. Cosa vuol dire? Intanto la scelgo, scelgo questa portatile così comincerà a scaricarsi. Ecco qua che adesso sta arrivando nel mio computer e ha praticamente già finito, per cui è stata molto veloce. Cos'è la versione portatile e perché preferisco quella? La versione portatile è una versione del programma in grado di funzionare senza essere installata sul computer. Quindi quella che mi deve pulire le cose non ha bisogno di essere a sua volta installata nel mio computer, quindi lo lascia pulito. ma la cosa bella di questa versione è che io la posso lasciare su una pendrive e portare sempre con me. Se mi capita per lavoro di vedere tanti computer, potrei avere necessità di disinstallare un programma dal computer di un amico, di un cliente e voler utilizzare questo Revo Uninstaller in questo modo. Non ho bisogno di installarlo e quindi lasciare traccia nel suo computer, semplicemente metto la pendrive e lo utilizzo da lì. Ora noi lo abbiamo scaricato. Chiudo il mio browser internet perché in questo momento non mi serve più. Vado dove ho scaricato il file, quindi dentro download, anche qui lo recupero dallo schermo diciamo di supporto del mio computer ed eccolo qui, Revo Uninstaller Portable. Questa è la versione del programma compressa, cioè è stato scaricato un unico file contenente tutti gli altri. In questo modo la velocità di scaricamento è stata più veloce. Lo decomprimo, faccio tasto destro e vado su 7-zip e scelgo Estrai qui. Gli dico vediamo cosa succede. Ecco che mi viene aperto questo file compresso e questa è la versione veramente utilizzabile. Questa è la cartella che dovrei mettermi sulla pendrive e da lì lanciare l'applicazione. Per quanto riguarda l'estrazione dei file io ho usato questo 7-zip e c'è un video apposito che ne parla e qui sulla i cercherò di mettere un rimando a quel video per cui se non sai utilizzare il compressore dei file o il decompressore dei file in quel video puoi vedere come fa. Allora apro il mio Revo Uninstaller Portable eccolo qua e lo lancio cliccandoci sopra mi viene chiesto vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo? Tu probabilmente in questo momento stai vedendo uno schermo nero. Gli dico di sì ed ecco che adesso sono pronto. Mi viene devo confermare e accettare le varie condizioni di utilizzo dico ok ed ecco che mi si è aperta l'applicazione in modalità Uninstaller. questa applicazione fa più cose nonostante sia la versione gratuita fa più cose ma da qui io posso vedere quello che siamo venuti a verificare oggi c'è la possibilità di disinstallare un programma. Questi che appaiono non appaiono a caso ma sono tutti i programmi installati nel mio computer ne posso scegliere uno da togliere. Come nella diretta io ho tolto il VLC Media Player perché in questo momento non lo sto usando ma lo reinstallerò subito dopo aver finito la registrazione perché è un programma gratuito ed utilissimo per vedere i tuoi video per cui te lo consiglio. Ok quindi clicco qua sopra e dico che voglio rimuovere l'applicazione ecco qua un install clicco lì lui ci lavora verifica il programma dove si è ramificato e cerca di disinstallarlo. Diamogli qualche istante in questo momento in realtà sta creando un punto di ripristino del sistema cioè vuole avere la possibilità di tornare indietro se durante la disinstallazione dovesse succedere qualcosa che fa in modo che il computer poi non funzioni più come dovrebbe o come vorrei o come prima è più giusto dire lui sarà in grado di riportare la situazione a quel punto. non vedo perché non dovrebbe più funzionare come prima dato che non è un'operazione pericolosa in ogni caso questo programma visto che fa una pulizia più approfondita andando a lavorare anche in file di registro reputa opportuno fissare un punto al quale eventualmente tornare in caso di problema. Bene ora devo semplicemente dire avanti voglio eliminare tutto quanto quindi attivo anche questa casellina qui questa fase della disinstallazione cambia da programma a programma sposto un attimo la finestra perché forse c'è la mia immagine che copre e dico disinstalla ma in pratica devo sempre dire ok avanti disinstalla eccetera ogni programma in questo momento ogni programma che disinstalla in questo momento mostra una cosa diversa ma molto simile a questa questa è quella specifica di VLC dico chiudo perché ho finito di disinstallare in realtà ora che ho disinstallato quindi questa è una disinstallazione classica come potevo fare anche dall'altra parte con l'altro sistema qui adesso mi viene detto senti ok hai disinstallato facciamo una cosa diamo un'occhiata nel tuo computer per vedere se questo VLC ha lasciato residui qua e là possiamo fare una verifica leggera una verifica moderata che è consigliata perché è già preimpostata o una verifica avanzata e più approfondita tengo il moderato faccio scan e viene fatta una verifica suppongo che se fosse avanzata impiegherebbe di più ma di fatto non lo so perché non ho provato qui magari lascerò a te la voglia di provare eventualmente attendiamo che abbia finito la scansione ecco fatto e ha verificato ha visto che nel computer sono rimaste varie cose inerenti a questo software VLC che andiamo a togliere quindi oltre alle disinstallazioni sono rimasti dei residui gli dico select all quindi sceglimeli tutti chiaramente se io fossi più tecnico diciamo sarei in grado di andare a vedere e capire di cosa si tratta in realtà non lo sono abbastanza per vedere questo ma se sono considerati dei residui li vado a togliere tutti quanti e poi dico delete per cancellarli mi dice sei sicuro di voler cancellare queste cose sì e ora ho fatto e posso dire finish vediamo qua cosa mi dice devo fare anche questo vediamo select all delete cancelliamo anche questi sì ok ora ho tolto tutti i residui di questo programma dal mio computer so già che funziona perché l'abbiamo verificato insieme in diretta qua posso tornare sul desktop e se dovessi andare nel computer a verificare la presenza di VLC non trovo più nulla e l'abbiamo già fatto insieme in diretta diretta che ti invito a guardare tutti i martedì sera alle 20 dalle 20 alle 21 e dalle 21 e 30 alle 22 e 30 quindi ne facciamo due diverse ogni martedì o eventualmente guardare in registrata le registrate ti ricordo che le puoi raggiungere se sei iscritto al canale e se hai attivato la campanella in questo modo riceverai la notifica della diretta con il link per raggiungerla in qualsiasi momento ti ringrazio per i mi piace che vorrai mettere e per i commenti che eventualmente ti sentirai di scrivere a presto ciao ciao